Musica Intervento della Croce Rossa di Castellamonte, della Croce Bianca del Canavese, della Croce Rossa di Cornier, oltre che della polizia locale e dei carabinieri, questa sera, sabato 12 maggio, poco prima delle 21.30, al bar sport di Cornier. Un uomo si è sentito male, i soccorritori hanno prontamente effettuato le pratiche di rianimazione. Quando ormai sembrava non ci fossero più speranze, l'uomo, un 59enne di Cornier, si è ripreso. Subito caricato in ambulanza è stato trasportato al campo sportivo, dove è atterrato l'elio di soccorso che lo ha portato in ospedale a Turino. Grazie a tutti!